Benvenuti picciotti in questo nuovo video di FAMGAMERS Oggi vedrete un bel gameplay fatto con i follower Dove siamo arrivati a una win sulla nuova mappa Vondel di Warzone 2 Stadio? Va bene Stadio Ma perchè all'inizio sembra che non si muove? Devi aprire e chiudere il paracadute di nuovo Giuseppe quella si stramia quella di essere tua E invece no Si è presa tutte e due Niente non mi sono lasciato un'arma Già il fatto che non mi sono rotto le gambe Un pompeccecchino ho trovato La c'è gente Io ho trovato una pistola Io ho trovato solo munizioni Bene potete piangere dopo che moriamo grazie Faccio un po' Se lo volete E' un po' c'è di precisione Oh Mi ho trovato i due collegati qua raga Un altro Fatto anche l'ultimo Io li sento sopra però vabbè Non ti credo No sono sotto Fatto uno Easy 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 Bastardo Uno qua con colpetto Che c'ho fai Ma non d'accordo Ma che cazzo mi stava Sono questo era Sembra di sì Oh crackato in aria A terra quello Per cato un altro Dove cazzo è? Un altro è là in fondo C'è chi non è in fondo raga Chi non è in fondo da che lato? C'è un altro qua da me Ho visto solo la luce Loro sanno dove siamo perché vedono Sento gente sotto di noi Loro vedono la nostra ombra in quell'ombrinone di merda Oh gente è qua da me Ma dove? Ah sono freddo Nooo ma veramente è un cecchino Prendi un altro No è un cecchino voi No hanno fatto il mortaio da me Mi sta mirando No chi sei andato in un mortaio Eh lo so Ti sta sparando è da te o cosa? Si da tutti i tetti Tutti quei tetti là No Una terra? Tranquilla mi sto facendo un po' di cecchina Mi hanno lanciato un altro mortaio Mi sto facendo tutte le cecchinate Mi vendico C'è gente qua Gli dei acqua Uno fatto Mi sono meno andata dietro Un compagno è tornato in casa E le cose dietro Ho fatto un altro Aspetta aspetta Ne ho fatti due Sono incazzatissimi Aspetta sto morendo Sto morendo Sto morendo Aspetta Fran Ho fatti un botto No mi devo rubare le cose Però le ho fatti io questi Ne ho metto uno qua in casa Oh sto morendo Sto morendo Non andare da quelli Ci uccideranno tutti Invece no Guarda me Ho fatto uno Ho fatto uno Dove? No Ecco la pistola dietro di me C'è uno lì Questo l'ho fatto Mi infilo qua nel mezzo Veronica Così puoi essermi Uno in questa casa Oh è uscito 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 Tingato E che ve lo fate? Ok Resti No a Veronica sparano Lancio la fumogera sul vero Bravi Grazie Cucù Mi mirano Gente Eh sia a destra Cicchino Ma no Quante bombe No Non c'è una vita Fermo Lo resto io No Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Com'è che mi ha proprio finito? Io non capisco Ah lanciato la granata No 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 Ritonatore nemico segnalato nell'area Si ho detto di salire Mamma mia Voi siete proprio dei camper Non sto deve andare Mi ho fatto uno sotto Vai via quello Tutto C'è uno sul tetto Lo so La maschera La maschera Tranquillo Quanto gente qua Oh gente sui detti davanti Oh gente sui detti davanti Uno fatto C'è gente qua in mezzo Non so dove Occhio Lo senti dossier No Oh si Fa uno Vieni 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 Entra subito dentro No da destra Da destra Vieni 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 Futtitini Vieni segui me Segui me C'è la maschera No Sono proprio sfumato Allora avanzate dritti Minchia collega Chiudi la sta porta Vediamo Che siamo Quanti siamo Minchia ancora ce n'è Io salgo qua sopra E lancio la fumogena Salgo da queste scale Dove c'è la fumogena No mi sono picchiando in acqua Ma no Potevi dirlo Fatto vero Fatto 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 Come si sale qua No No Un altro in atto Erano in tre quelli No 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 Erano tutti da soli Erano tutti da soli So ce ne fosse uno 2v1 Audio Cazzo è andato l'altro 15 bombe Io no Colpetta della vittoria 16 bombette ragazzi 7000 di danno 12 32 bombe di team Grazie picciotti per aver visto il video fino a qui Se non l'avete ancora fatto lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video di Fam Gamers e vi ricordo che siamo in live su Twitch tutti i giorni Ciao